Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura l'emergenza sanitaria si impegna al 12,44% il rapporto tra positivi e test effettuati in Campania. Salgono i contagi nella città di Torre del Greco dove ieri si è registrato anche un decesso. Intanto a Castellammare il sindaco Cimmino decide per la DAD nelle scuole. Ancora tanta l'incertezza sull'origine del virus. I ricercatori suggeriscono un'origine animale ma non è chiaro ancora quale sia l'esemplare. Spazio poi alla cronaca. Rintracciato e arrestato dalla polizia a Torre del Greco un pluri pregiudicato nella sua abitazione. Sono state rinvenute documenti falsi, un chilo di droga e una pistola. Invece Maxi sequestro delle fiamme gialle a Torre Annunziata di sigarette di contrabbandono. I guai è finito un 62enne. In chiusura i danni del maltempo. Danneggiata nuovamente la passeggiata a Portoscala a Torre del Greco con le nostre telecamere. Questa mattina siamo stati in zona per documentare la situazione. Questo è molto altro. Guardiamo i servizi. Si impenna al 12,44% l'incidenza positivi test in campagna. I nuovi contagi sono 1.189 di cui 55 sintomatici su 9.555 test eseguiti. Non si ferma la conta delle vittime legate alla pandemia a Torre del Greco. Il sindaco della città vesuviana Giovanni Palomba, infatti al termine del consueto aggiornamento presso il centro operativo comunale, ha fatto sapere che a perdere la vita è stata un'anziana di 85 anni. Il bilancio delle vittime dell'emergenza sanitaria sale così a 93, con 73 decessi avvenuti negli ultimi tre mesi e mezzo. I positivi a Torre del Greco ora sono 613, con 28 persone in regime ospedaliero. A Torre Annunziata ieri sono risultati positivi 5 operatori dell'ambito sociale N30. Disposta quindi la chiusura degli uffici e la sospensione dei servizi afferenti, il centro per famiglie, il segretariato sociale, l'asilo nido e il centro antiviolenza presso la sede di Via Parini fino al prossimo 17 febbraio. Contagi ancora in aumento a Castellammare. Sono 168 i cittadini risultati positivi al coronavirus nei giorni 6, 7 ed 8 febbraio. 102 presentano i sintomi della malattia, i restanti sono asintomatici. L'aumento dei contagi di pari passo con l'amplificarsi di comportamenti scorretti che pregiudicano la sicurezza di tutti ha portato il sindaco ad interrompere le attività scolastiche in presenza, con un ritorno alla DAD. Brutte notizie arrivano anche da San Giorgio, accertati 16 casi nell'istituto paritario Regina dei Gigli, disposta alla chiusura in via precauzionale per tutta la settimana. Ancora tanta l'incertezza sull'origine del virus che nell'ultimo anno ha portato via più di 2 milioni di persone nel mondo e ha stravolto radicalmente i nostri stili di vita. Un riscontro approssimativo arriva dalla Cina, dove un team di ricercatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha tracciato un sentiero che porta all'origine animale. Ad affermarlo è Lian Wanyan, a capo della delegazione di 17 esperti cinesi che ha affiancato quella dei 17 scienziati internazionali dell'OMS, provenienti da 10 paesi diversi. Lian ha anche aggiunto che la Cina sostiene il lavoro e l'azione dell'OMS. Le ricerche effettuate sin qui suggeriscono che abbia un'origine animale, ma non è chiaro quale sia l'esemplare ospite, ha proseguito Lian. Pipistrelli e pangolini sono i più probabili candidati alla trasmissione, ma i campioni di coronavirus trovati in quelle specie non sono identici al SARS-CoV-2. Intanto la ricerca continuerà nel resto del mondo e non sarà vincolata ad alcuna località, conclude il capo della delegazione. In casa documenti falsi validi per l'espatrio, con tanti una pistola e droga. I carabinieri di Torre del Greco, nell'ambito del traffico di stupefacenti, hanno rintracciato ed arrestato un 41enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, sul cui capo pendevano due provvedimenti a seguito di una condanna a due anni e 11 mesi per detenzione spaccio di droga e per inosservanza di una precedente misura cautelare che aveva violato, è stato individuato in un appartamento di Torre del Greco. Durante la perquisizione conseguente alla cattura, i militari hanno rinvenuto, occultati sotto ad un tavolo in cucina, una pistola semiautomatica provento di furto nel 2016 e 67 proiettili. Occultati in una cassa panca in camera da letto, sono stati rinvenuti in oltre 133 grammi di cocaina e 500 grammi di marijuana. L'uomo nel proprio portafoglio aveva anche documenti falsi, validi per l'espatrio e 670 euro contanti in mangonotte di vario taglio. L'arrestato è stato tradotto al carcere di Napoli Poggio Reale. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto un 62enne di Napoli residente a Caserta, già conosciuto per precedenti episodi di contrabbando, ricettazione, truffa e reati economico-finanziari e sequestrato 440 kg di sigarette di contrabbando. L'operazione è stata condotta dai baschi verdi del gruppo Pronto Impiego, che durante la costante attività di controllo economico del territorio hanno notato all'altezza dell'uscita di Torre Annunziata Nord dell'autostrada A3 un furgone avanzare ad alta velocità. Grazie al tempestivo intervento della pattuglia e alla conseguente ispezione del veicolo commerciale, è stato scoperto nel vano, sistemato in diversi teri di plastica di colore nero, il carico di bionde di contrabbando del noto marchio Chesterfield. La provincia partenopea si conferma importante hub di transito delle sigarette verso altre città del nostro paese e zona di consumo particolarmente radicato. Nel corso del 2020, infatti, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato 937 interventi, sequestrato quasi 32 tonnellate di tabacchi, 38 mezzi di trasporto, denunciato 774 soggetti, di cui 84 tratti in arresto. Numeri che denotano un trend stabile rispetto al 2019 e che inducono a ritenere che il mercato illegale dei prodotti da fumo, nonostante la pandemia, non abbia subito sostanziali contrazioni. Passeggiata Portoscala, di nuovo alle prese con il maltempo e le mareggiate. In un mese di febbraio davvero singolare, segnato dall'alternarsi di giornate soleggiate e piovose, la zona Portoscala sembra essere uno dei luoghi più colpiti dal maltempo. Siamo stati con le telecamere dei tv siti per documentare la situazione attuale. Come si può notare dalle immagini, i detriti, i massi e i rifiuti hanno completamente coperto la passeggiata, che è diventata praticamente inagibile. Le assi che compongono la passerella sono state ormai del tutto smantellate per far posto ad enormi macigni che hanno devastato l'opera pubblica costata 2 milioni di euro all'amministrazione comunale e finanziata con i fondi più Europa. Intanto i cavalloni innescati dal vento incessante portano a riva grossi cumuli di immondizie, un evento che ormai si verifica di consueto in questa zona. Sarà quindi fondamentale trovare delle corrette contromisure per evitare il verificarsi di queste situazioni di pericolo anche per i più piccoli, vista la presenza delle giostre. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che potete contattare la redazione inviando un'email all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Grazie per la cortese attenzione. Grazie per la visione!